Lunedì 9 ottobre Lunedì 9 ottobre 2017, buongiorno, bentrovati al primo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa che si apre come sempre con le prime pagine dei giornali. Iniziamo dal centro, dall'edizione di Pescara per vedere i titoli principali, degli argomenti che poi ritroveremo all'interno del giornale. Si parla di manutenzione delle strade in questo caso perché arrivano un milione e mezzo di euro per le strade di Pescara. Pescara, ecco il piano di Blasioli, vice sindaco, e partono gli avvisi per recuperare 500 mila euro di Imu e Vasa. Poi vedete a centro pagina si parla di valanghe, ovviamente si ritorna con la mente alla tragedia del 18 gennaio scorso, la mappa del rischio della regione costa un milione di euro. In questa immagine vediamo proprio le immagini di qualche istante dopo la valanga che distrusse lo scorso 18 gennaio l'hotel Rigopiano di Farindola. E poi nelle cronache lo sport in primo piano, oggi come ogni lunedì, ovviamente nella seconda parte daremo grande spazio allo sport. Si parla in questo caso del Pescara, brutta figura del Pescara. Zeman accusa la squadra Biancazzurri battuti per 2 a 1 allo stadio Adriatico dal Cittadella, seconda sconfitta stagionale per la squadra Biancazzurra. E poi medici in campo per salvare l'ospedale civile di Pescara. C'è mobilitazione proprio per far sì che il, non so comio, pescarese resti un ospedale di secondo livello. E poi la cronaca, ragazza 17enne rapinata e malmenata, sempre a Pescara. In alto troviamo un titolo che riguarda lo sport, il giornalismo italiano in lutto perché è morto Aldo Biscardi, l'inventore del processo del lunedì. Tra qualche settimana avrebbe compiuto 87 anni Aldo Biscardi, tra l'altro molisano e nativo di Larino in provincia di Campobasso, ma da tempo viveva a Roma. Andiamo a vedere anche la prima pagina del centro, edizione di Teramo. Mobbing allo zoo profilattico, istituto condannato in cassazione, vittima un dipendente che aveva denunciato la presenza di Amianto. Vediamo le cronache, lo sport in questo caso per il Teramo, punto pesante sul campo della capolista. Vedete il titolo, un punto davvero pesante per i biancorossi che sotto di un gol sono riusciti a trovare il pareggio. La rete dell'1-1 con Foggia al 95esimo, dunque nell'ultimo assalto utile per evitare la sconfitta. E poi il basket di serie A2, difesa fatale, Roseto cade a Montegranaro, seconda sconfitta su due per i rosetani. E poi cronaca, Tortoreto, scooter contro automobile, grave un quarantenne. Vediamo anche altri titoli che riguardano la nostra regione, cronaca regionale. Torniamo a nove mesi da Rigopiano, le donazioni per Samuel ancora bloccate. E poi triennio 2014-2016, imprese in calo, si salva solo la ristorazione. E poi la discarica dei veleni, bussi dall'Arta, nuovo studio sui danni alla salute. Andiamo a vedere ora la prima pagina del centro, edizione di Chieti, Lanciano, basto. Si parla di scomparsi in questo titolo, Valerio e Benito spariti nel nulla, giallo sui due casi di scomparsi nel Chietino in Abruzzo. Sono 462 dal 1974 ad oggi. E a Pescara questa mattina ci sarà un convegno proprio per parlare con le associazioni di familiari che si occupano di persone scomparse. Proprio di questo problema che riguarda ovviamente tutto il Paese, di centinaia di persone che sono svanite nel nulla negli ultimi anni. Vediamo anche le cronache, sempre restando la prima pagina del centro, edizione di Chieti, vasto, non paga tasse del cliente, fiscalista condannato. E poi il calcio, doppia vittoria, Vastese Chieti dà applausi, Vastese vittoriosa nel campionato di serie di Chieti nel torneo regionale di eccellenza. E poi la palla a volo con la siecortona a Corsara con il Taviano Brilla-Benz, il giocatore della formazione ortonese. Andiamo a vedere anche la prima pagina del centro, edizione di L'Aquila-Vezzano sul Mona, pediatria, specializzazione a Dio, L'Aquila, la scuola trasloca Chieti, la rabbia di Ortu dell'Ordine dei Medici che dice uno scippo. E poi Canistro, Santa Croce, 67 addetti da un anno senza salario. E poi anche ovviamente sull'edizione dell'Aquila del centro ci sono i richiami che riguardano lo sport, il calcio, colpi esterni per L'Aquila ed Avezzano. Brillano le due formazioni in terra marchigiana e poi l'Aquila vince il derby di rugby con il Gran Sasso e sopravvive. Forse questa è la notizia più importante. Ricordiamo che nella scorsa settimana la squadra non era scesa in campo e c'era stata una mobilitazione da parte di sportivi, forze politiche e non solo. Siamo alla prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Il Pescara, vedete il titolo principale che riguarda il calcio, Pescara condannato dalle solite distrazioni, il rigore non basta. La squadra di Zeeman passa il Cittadel con il risultato di 2 a 1. Poi altri richiami di sport, Serie C, grande pareggio del Teramo con la capolista, ex capolista Bassano, perché poi in serata si sono giocate altre gare e Bassano è stato superato in classifica. Vole e basket, Tortona vince in trasferta, Schax, Roseto, battuti. E poi vediamo in alto, per quanto riguarda sempre la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. L'Aquila, troppe auto ma la qualità dell'aria è ancora buona. E poi Vasto, Movida, Violenta, in pieno centro, ragazzo picchiato a sangue Avezzano, poliziotto ucciso da infarto mentre va in bicicletta. E poi l'articolo di fondo, di spalla, che riguarda in questo caso l'economia, piccole imprese dal naufragio si salva solo Pescara. E poi a centro pagina l'altro titolo importante riguarda i tribunali. I tribunali è di nuovo rivolta, tornano a rischio, infatti le sedi di Avezzano, Lanciano, Sulmona, Vasto e la Corte d'Appello. Il ministro Orlando dice completeremo la riforma giudiziaria, mobilitati i parlamentari abruzzesi. E poi Dream, il capolavoro del writer Milo, l'opera sulla parete di un palazzo a Fontanella in via caduti per servizio. Tra l'altro vi avevamo fatto vedere un servizio nei giorni scorsi proprio all'interno del nostro telegiornale con l'intervista all'autore proprio di questo writer, di questo dipinto, se così lo possiamo chiamare, di questo murales, per meglio dire, su un palazzo di via caduti per servizio a Fontanella. L'opera è stata poi completata e vedete in questa foto ovviamente il ritratto di quest'opera che si trova su un palazzo di via caduti per servizio a Fontanella, a Pescara, quartiere di Pescara. Lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, andiamo a vedere come sempre le prime pagine invece dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, rottura a sinistra, mossa di Pisapia, dialogo con Renzi, questo è il titolo principale, si parla di politica, MDP si spacca sulla scelta di correre da soli. Dunque ancora polemiche alla sinistra del PD. E poi vedete a Barcellona il corteo contro la secessione perché ci sono tanti catalani che non vogliono staccarsi da Madrid. Ieri c'è stata appunto questa manifestazione in alto, ritroviamo anche sul Corriere della Sera l'addio a Biscardi in eventual talk show del calcio in TV, aveva 86 anni. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica, la scelta di Pisapia, sinistra di governo, si allontana da MDP, rischiano di fare il partito del 3%, dice l'ex sindaco di Milano, Dianogo con il PD, Gentiloni, ha un profilo altissimo. E poi vedete la Polonia senza migranti, prega in massa contro l'Islam, questo l'articolo che ritroviamo sul Repubblica, un milione di fedeli lungo 3.500 chilometri di confine. Andiamo ancora avanti, siamo alla prima pagina del messaggero, espulsioni, il piano del Viminale, potenziamento dei centri per i rimpatri e nuovi accordi con i paesi di provenienza per rientri più veloci. Anche sul messaggero ritroviamo la notizia che riguarda la rottura fra Pisapia e la MDP, con Pisapia che apre a Renzi. E poi vedete, Catalonia ha la marea unionista, no alla secessione, è un golpe. E dunque c'è anche chi è contro questa secessione, questa indipendenza, se così la vogliamo chiamare. Hanno voglia di uccidere gli antifascisti sanguinari, questo è il titolo di Libero, alla manifestazione partigiana di Milano, i maxisti dicono di voler ammazzare quelli di destra, Lampi chiede di impedire a Casa Pound e Forza Nuova di fare politico e Fiano vaneggia di limitare la libertà di espressione. Questo è il titolo di Libero e poi vedete a centro pagina la foto di Biscardi scomparso ieri a Roma all'età di 86 anni. Siamo alla stampa di Torino, falchi dell'Unione Europea contro gli sconti all'Italia. Questo è il titolo di apertura del quotidiano torinese, nuova imposta dell'8% sui ricavi per i colossi della rete. C'è anche un sondaggio che dice un cittadino su tre per l'addio all'euro. Questo è il titolo della stampa di Torino. E poi vedete un articolo che riguarda la Barcolana, sole e vento, la Barcolana e Daguin. Sala regata di Trieste, 2.101 barche, 25.000 velisti equipaggi da 27 paesi di tutto il mondo per la Barcolana di Trieste. Siamo al fatto quotidiano, Pisapia sfascia la sinistra, così titola il quotidiano Il Fatto. Vedete nella foto a centro pagina proprio l'ex sindaco di Milano. E poi, vedete più in basso, referendum, questione, disghei, con ovviamente si parla in questo caso di referendum in alcune regioni del nord, da Verona a Venezia. Sarà il giorno della liberazione, i nostri soldi devono restare qui, basta darli al resto del paese, dicono alcuni fautori di questo referendum. Siamo al sole 24 ore, ecco la mappa dei reati, 284 denunce ogni ora. Nel 2016 si conferma il calo generale dei delitti, meno 7,4%. Le statistiche sono riportate dal sole 24 ore, provincia per provincia, del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. E vediamo che in questa pagina che riguarda proprio l'andamento dei delitti e dei reati commessi nel nostro paese nei primi posti, a seconda delle varie tematiche e dei vari reati, non ci sono fortunatamente capoluoghi abruzzesi. Lasciamo il sole 24 ore e vediamo anche il quotidiano Il Giornale, i 50 compagni di Battisti che se la godono all'estero, assassini e brigatisti, ecco chi non ha mai pagato per i suoi crimini, questo è il titolo del giornale. Siamo al mattino di Napoli, Pisapia gela l'MDP, vale il 3%, abbiamo visto anche dagli altri quotidiani che Pisapia si sta separando a questo punto praticamente da MDP per voler riallacciare i contatti con Renzi. E poi vedete Spagna in piazza, il popolo anti-secessione che parla di golpe. Siamo arrivati alla fine della nostra edicola nazionale, possiamo tornare ai quotidiani di casa nostra al centro per andare a vedere a pagina 2, si parla di Rigopiano perché partirà tra poche ore l'operazione di rimozione delle macerie ma non solo perché si parla anche della carta delle valanghe, carta delle valanghe, vedete dal costo di un milione di euro tre consorsi in gara per mappare 4330 km quadri entro il 2020, tra 14 giorni il vincitore, ecco il bando della regione passato ai raggi X. E poi l'inchiesta, un interrogatorio in procura sblocca l'iter fermo da anni. E poi in basso si parla invece di economia, l'Abruzzo perde imprese ma la ristorazione cresce. Questa è l'analisi dell'economista Aldo Ronci che nel suo studio dice ancora mancano all'appello 2435 aziende, la flessione più forte nell'artigianato. E poi ancora tornando all'argomento Rigopiano, vedete in alto in 60 anni quasi 800 slavine, l'elenco storico è diventato pubblico, nel 2014 l'Abruzzo si rivela a rischio altissimo. E poi donazioni per il piccolo Samuel bloccate in un conto corrente, il piccolo Samuel, il bimbo rimasto orfano e vittima della burocrazia. E poi in basso si parla di giornalismo, un'altra scomparsa nel nostro paese, è morto il giornalista Cangini, aveva 83 anni, ha diretto tre quotidiani, era nato a Pescara, oggi si terranno. I funerali. Andiamo avanti, saltiamo tutte le pagine di cronaca nazionale, però un riferimento alla scomparsa di Aldo Biscardi lo dobbiamo sicuramente fare. Addio Aldo Biscardi, re del calcio in tv tra Sgub e Moviola con il processo, il post partita di Venne, commedia dell'arte. Vedete le foto di alcune delle edizioni del processo del lunedì, una delle trasmissioni più longeve del panorama televisivo italiano, 33 le edizioni consecutive condotte da Aldo Biscardi. Si terranno oggi i funerali a Roma. Dicevamo Biscardi, tra l'altro romano di adozione, ma molisano di nascita, era nato a Larino, in provincia di Campobasso, e quando poteva tornava nella sua città natale, Aldo Biscardi che era grande appassionato ovviamente di calcio e anche tifoso, lo abbiamo letto dalle dichiarazioni di uno dei nipoti, anche tifoso del Campobasso, la squadra, diciamo, regina del Molise. Dunque oggi ci sarà l'ultimo saluto ad Aldo Biscardi che è scomparso proprio nell'anno in cui il calcio segna l'avvento del VAR. Andiamo ed arriviamo alle pagine delle cronache provinciali. Partendo da Pescara si parla di strade, cantieri di autunno, buche strisce pedonali, via ai lavori per un milione e mezzo di euro. Lo dice il vice sindaco di Pescara, Antonio Blasioli, che annuncia i primi interventi per tamponare le emergenze in città. Andiamo avanti, la prossima pagina, partiamo dall'alto, parla l'assessore alle politiche della casa Teodoro che dice spendiamo 400 mila euro per sistemare le case di Zanni e Fontanelle. E poi, Imu e Vasa per 500 mila euro, il Comune invia gli avvisi durante gli accertamenti sull'imposta degli ultimi cinque anni, sono stati trovati più di 100 contribuenti, non in regola, sono già partite le azioni di recupero. E poi ritroviamo l'articolo che riguarda l'opera di Millo, Francesco Giorgino, in arte Millo, lo street artist, ha terminato la sua opera Fontanelle e l'ha chiamata Dream. Lo avevamo, come detto, ascoltato anche qualche giorno fa con un'intervista mandata in onda nel nostro telegiornale. Andiamo avanti, pagina 12, ancora cronaca da Pescara. I medici scendono in campo per difendere l'ospedale. Si torna a parlare dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. Ciofani, già primario di nefrologia e dialisi, portavoce della consulta clinica, dice no allo spezzettamento dei dipartimenti di emergenza e accettazione. La replica dell'assessore alla sanità Paolucci non torna indietro. Marcozzi dice priorità a servizio efficiente. Dunque ci sono ancora polemiche sul futuro dell'ospedale di Pescara, l'ospedale più grande, con il maggior numero di accessi in pronto soccorso nella nostra regione. E poi la cronaca. Ancora Pescara, ragazza rapinata e malmenata. Un romeno tenta di strapparle il telefonino mentre fa jogging. E poi Via Gran Sasso, anziano di 90 anni, trovato morto in casa. E poi pista ciclabile sulla rivera sud, Foschi contesta il progetto. Andiamo in basso per parlare di chiesa perché San Cetteo domani, giorno della festa del patrono a Pescara, giorno di San Cetteo, questa ricorrenza verrà festeggiata con la presenza del presidente della conferenza episcopale italiana che sarà a Pescara, il cardinale Gualtiero Bassetti. Dunque una presenza di grande prestigio, di grande rilevanza proprio nel giorno della festa del patrono. Domani a Pescara, ovviamente 10 ottobre, saranno chiusi uffici pubblici e scuole proprio per la ricorrenza del santo patrono San Cetteo. Siamo ad un altro argomento, la discarica di bussi, esami sul cibo alla ricerca dei veleni, nuovo monitoraggio nel 2018 riguarderà gli alimenti, la popolazione a campione e gli animali di mezza provincia. Proseguiamo in giro con patente falsa arrestato, siamo a Montesilvano, nei guai un albanese di 27 anni, operazione dei carabinieri della locale compagnia, multati, prostitute e clienti. Andiamo ancora avanti per vedere un'altra pagina del centro, siamo alla pagina di Chieti, si parla di scomparsi, abbiamo visto anche nelle prime pagine sia del centro che del messaggero proprio titoli riguardanti questo argomento perché ci sono tanti scomparsi negli ultimi anni nella nostra regione, persone che hanno fatto perdere le loro tracce, non sono state mai ritrovate. A Chieti in particolare si parla di Valerio e Benito, misteri fitti, due casi nel Chietino in due anni in Abruzzo dal 1974 ad oggi. Pensate, gli svalinti nel nulla sono 462, un numero davvero rilevante. E poi c'è la storia di queste due persone. Valerio, molto conosciuto a Chieti, fotografo per tanti anni, aveva collaborato con il quotidiano Il Tempo, due anni fa scomparve a fine settembre di Valerio De Torre, non si è mai saputo più nulla. E poi quest'altra scomparsa, la scomparsa di questo giovane da Francavilla a Roma per studio, poi più nulla. E come detto ci sarà un convegno proprio su questa tematica, un convegno che si terrà questa mattina in Tribunale a Pescara dalle 10 alle 13. Il tema sarà quello sulle tracce delle persone scomparse entro le prime 48 ore. Interverranno, tra gli altri, il sottosegretario Federica Chiavaroli e poi Antonio Maria Lascala, presidente dell'Associazione Penelope, che si occupa proprio della scomparsa di persone nel nostro paese. Siamo alla pagina dell'Aquila del Centro, università e polemiche, pediatria dio scuola di specializzazione, questo è il titolo principale. In Abruzzo ne resterà solo una a Chieti, la rabbia di Ortu dell'Ordine dei Medici dell'Aquila. Poi parla però il rettore dell'Università dell'Aquila, Inverardi, che dice che non tutto è perduto, ci riproveremo per il prossimo anno accademico. E poi ci spostiamo nella Marsica, Santa Croce, 67 addetti senza stipendio, canistro l'appello alle istituzioni. Da un anno fermi e da febbraio viviamo con 700 euro al mese. Andiamo avanti per vedere la pagina di Teramo del Centro. La Cassazione, mobbing allo zoppo profilattico, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell'Istituto. Inammissibile, chiuso il caso di un dipendente vittima di comportamenti scorretti dopo aver denunciato la presenza di Amianto nella sede. Andiamo a centro pagina. Scooter contro auto, grave 1 Giuliese, tortoreto l'incidente sulla bonifica del Salinello, ferito lievemente anche l'automobilista. E poi in basso si parla di infortuni sul lavoro. L'appello dell'Anmil nei primi sette mesi dell'anno. Infatti è stata superata la media nazionale con un aumento del 5,4%. Siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere insieme invece le pagine che riguardano l'inserto Abruzzo del messaggero. Avevamo già visto in precedenza la prima pagina dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano. Come detto oggi daremo grande spazio come sempre nella seconda parte con il corredo di immagini e servizi allo sport. andando a vedere soprattutto i servizi delle partite delle nostre formazioni partendo dal Pescara e dalla sconfitta casalinga con il Cittadella. Poi parleremo anche di Lega Pro e di Serie D. Ma andiamo per ordine. Andiamo a vedere la pagina di cronaca di Pescara dal messaggero. Il sogno di Milo ridà speranza al Rione Fontanelle. Questo è il titolo principale. Si parla dell'artista, dell'artista Francesco Giorgino che ha completato il murale in via caduti per servizio ma i residenti vivono in case degradate e invocano interventi. E a proposito di interventi parliamo anche della Stella Maris, la colonia estiva da 80 posti perché da oggi partiranno i lavori nella Stella Maris, nel fabbricato che si trova a Montesilvano lungo la riviera. E poi ancora a Montesilvano, festa degli animali, cippa, cani e gatti, bambini in fila per un giro sul cavallo. Poi in basso si parla di cult e motori, grande cinema a The Space e all'Aurum. Andiamo avanti. Andiamo a vedere la pagina dell'Aquila del messaggero. Record di autovetture per abitanti ma la qualità dell'aria resta buona. La città che cambia il tasso del 75,8% di mezzi per residenti pone il capoluogo al primo posto in Italia. Per le polveri non vengono segnalate particolari criticità ma va ridotto l'ozono. E poi a San Demetrio i cittadini in campo per salvare l'antica chiesa di Cardabello. E poi restiamo e torniamo all'Aquila, via Strinella Alta, via Libera ad una discoteca nel palazzo che ospita gli uffici della ricostruzione. In basso la cronaca. La rissa durante la donata alpini si aggrava la posizione di uno degli accusati. E poi calcio sporco, altra partita truccata. Leggiamo qui dalle colonne del messaggero. Per la procura di Catanzaro l'ex DS Rosso Blu Ercole di Nicola combinò anche l'Aquila Grosseto. Andiamo avanti. Andiamo avanti per arrivare alla pagina del messaggero di Avezzano Sulmona. Suppressione tribunali. Riparte la lotta. L'Udc rilancia l'allarme. Documento firmato dal segretario abruzzese Di Giuseppe Antonio e dal provinciale Cipolloni. Si chiede lo stop anche all'eliminazione della Corte d'Appello dell'Aquila a favore di Ancona. Così dicono le istituzioni abruzzesi. Si paralizza il sistema. E poi Balsorano, malora in bici, muore noto commissario di polizia. E mentre ad Avezzano oggi l'ultimo saluto al 27enne deceduto in un incidente stradale. Andiamo a centropagina. Sulmona il comitato. Ecco perché la bretella non ha senso. E poi altre notizie. Tornando ad Avezzano, Carabinieri, Pietro Fiano, il nuovo capitano della compagnia Carabinieri Marsicana. E poi Pescassero, gli impianti di sci, via all'ammodernamento. Infine una notizia di sport, rugby in serie B, battute a Vezzano e Paganica. Domenica negativa per le due formazioni di rugby abruzzesi. Siamo alla pagina di Chieti del messaggero. Un ponte fra i due tribunali per la cittadella della giustizia. La società InVimit, pronta a pagare i lavori, ma serve il contratto provincia-ministero. Attesa in città la visita del ministro della giustizia Orlando per inaugurare gli interventi post terremoto. Da Chieti ci spostiamo a Lanciano. Rimpasto della giunta. Orecchioni e in Pol. Dopo la prematura scomparsa nei giorni scorsi del vice sindaco di Lanciano, Pino Valente. Restiamo nella città frentana. Progetto Etiopia. Rosato entusiasta per le donazioni in Africa. Ci spostiamo a Vasto ed a Ortona. A Vasto, Movida, Violenta in centro, ragazzo pestato a sangue. Ad Ortona, videosorveglianza in città, scontro di Sipio, Castiglione. Lasciamo la prima pagina, la pagina del messaggero che riguarda Chieti e provincia. Siamo alla pagina che riguarda Teramo e provincia in questo caso. Piazza Verdi nell'abbandono rinascerà con la bucheria. Siamo a Teramo. Attualmente mancano le condizioni minime per garantire la funzionalità. L'assessore Misticoni dice con i fondi per il sisma. Faremo come Barcellona. E poi Giulianova, travolta sull'autostrada mentre scende dall'auto. È stata ricoverata in prognisi riservata una donna di Giulianova. E poi Martinsicuro, i Vigili del Fuoco, nella scuola elementare. Mentre tornando nella città Giuliese, il Fai apre le ville ma non c'è. Ciafardoni in basso, schianto in scooter grave, un quarantenne. Mentre c'è un caso che riguarda la tua, migrante fatto scendere dal bus, botta e risposta proprio su quanto accaduto nei giorni scorsi. Lasciamo la pagina di Teramo per quanto riguarda il messaggero. Siamo arrivati anche in questo caso allo sport ma dobbiamo fermarci per qualche attimo per andare a vedere anche le previsioni del tempo per le prossime ore. Poi torneremo come sempre in studio per la seconda parte. Apriremo con le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali e poi parleremo di sport regionale. Siamo di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6, interamente dedicata allo sport. Partiamo dalle prime pagine, come detto, dei tre quotidiani sportivi nazionali. Gazzetta dello sport, il trono di Sarri. Si parla del Napoli e della capolista campana con il grande protagonista, ovvero il suo allenatore. Tra l'altro, lo ricordiamo, ex tecnico del Pescara. E poi in Albania per salvare faccia e testa. Si parla dell'Italia che si prepara a scendere in campo con l'Albania per blindare il secondo posto e di playoff per quanto riguarda l'accesso ai mondiali. Ma l'Italia già sicura comunque della partecipazione ai playoff. In alto c'è un richiamo che riguarda la Serie B perché ieri si sono giocate, come tutti sapete, le gare del campionato cadetto proprio per la sosta del massimo campionato e tra i risultati a sorpresa c'è stato anche il K.O. del Frosinone. Vedete, Frosinone K.O. a Novara, a gancio di Empoli. E Palermo classifica quanto mai corta perché pensate che tra la prima e l'ultima in classifica ci sono appena sette punti di differenza. Non era mai accaduto negli ultimi anni. Corriere dello Sport. Occhio Italia. Devi vincere per i playoff da testa di serie. Servono i tre punti con l'Albania. Infatti questo è proprio il problema perché è vero che l'Italia è sicura dei playoff ma vincendo questa sera in terra albanese a Scutari alle 20.45 inizierà la gara. L'Italia vincendo sarebbe testa di serie. E poi Spalletti contro Montella. Il derby si riaccende. Si pensa già alla stracittadina di Milano di domenica prossima. Chi rischia di più? Evidentemente rischia di più Montella con il Milan che deve darsi una svegliata come ha anche detto nei giorni scorsi l'ex presidente Berlusconi. E poi Allegri esclusivo. Siamo su tutto sport. È più facile essere belli che vincere questa intervista al tecnico della formazione bianconera. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali oggi in edicola. Torniamo invece ai quotidiani di casa nostra. Siamo alla prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Ovviamente parlando di pagina sportiva si parla del Pescara. Ieri in campo nel turno, nell'ottava giornata di andata del campionato di Serie B. Un Pescara distratto. Pescara distratto ci risiamo. Il Cittadella sbanca l'Adriatico approfittando delle solite disattenzioni difensive nel primo tempo. Benali riesce a riaprire la partita sul calcio di rigore ma poi fallisce nella ripresa la palla gol del pareggio. Pescara distratto. Fornasier dice approccio ancora sbagliato. Torreira torna da Genova. Calma ragazzi, la B è lunga. Ieri in tribuna l'ex Biancazzurro, oggi centrocampista della Sampdoria, è venuto a vedere i suoi ex compagni. Zeman non cerco scuse. La verità è che siamo indietro, ha detto il tecnico pescarese. Andiamo a vedere anche le pagine del centro proprio in riferimento al Pescara. Pescara stecca l'esame da grande, prova deludente e regali della difesa. Andiamo a vedere anche la pagina che riguarda proprio una delle pagine che riguarda la partita di ieri. Pranzo indigesto nell'anticipo delle 12.30. Il Cittadella si impone sfruttando gli errori della difesa. Vedete il titolo a centro pagina. Subito due regali in avvio. Pescara bocciato all'esame di maturità. Vediamo anche le dichiarazioni. Belani ci hanno impedito di giocare come volevamo. Fornasier noi male nel primo tempo, loro più determinati. Poi Cappelluzzo serviva più cattiveria, agonistica, dice l'attaccante dell'ex Elas Verona. Vediamo anche le pagelle del centro. Zampano e Del Sole dietro alla lavagna. Pigliacelli sei, Zampano cinque, Fornasier cinque, Bovo cinque, Mazzotta cinque e mezzo, Coulibaly cinque e mezzo, Canutè cinque, Brugman cinque e mezzo, Del Sole cinque, Pettinari cinque, Gans cinque, Benali sei. Una sola sufficienza. Vediamo i risultati delle altre partite. Poi andremo a vedere il servizio sulla gara per Scara-Cittadella. Palermo-Parma 1-1, Empoli-Foggia 3-1, Baria-Vellino 2-1, Venezia-Carpi 2-0, Cremonese-Ternana 3-3. E poi Clamoroso-Alcuri, Perugia-Provercelli 1-5. Provercelli che aveva segnato cinque gol al Cesena, ne segna altri cinque. Alla formazione Umbra, Virtus-Entella, Brescia 3-0, Novara, Batte-Frosinone 2-1. Noi possiamo andare a vedere il servizio sulla sconfitta interna delle Pescara con il Cittadella. Il pranzo non è servito e va anzi di traverso ad un Pescara ancora poco zemaniano che nel match-lunch delle 12.30 ha lasciato l'intera posta ad un Cittadella ben messo in campo e bravo ad approfittare soprattutto nella prima mezz'ora degli errori dei Biancazzurri che poi nella ripresa hanno provato a trovare il pareggio, mancando anche qualche ghiotta opportunità. Per la squadra abruzzese quella contro i Veneti è stata la seconda sconfitta della stagione dopo il K.O. del Renato Curi di Perugia. Zeman, che deve fare a meno ancora una volta di diversi elementi, perde alla vigilia anche coda per influenza e porta per rotta, non al meglio in panchina per onor di firma. Al posto del nazionale Capone c'è Benali. Diverse assenze anche fra i Veneti, panchina per l'ex Lucas Chiaretti che entrerà poi nella ripresa. Di fronte ad 8.000 spettatori si comincia gli ordini del signor Gersini di Genova. Pronti via e Cittadella in vantaggio al secondo con Adorni che di testa salta indisturbato in area su angolo battuto da Bartolomei. Avvio a sciocche per i Biancazzurri subito sotto e costretti a rincorrere gli avversari. Ile Pescara l'occasione giusta però per pareggiare al nono con Benali che in area trova la respinta miracolosa di Alfonso che salva porta il risultato. L'atteggiamento aggressivo e la difesa alta dei Veneti creano problemi al Delfino che fatica a proporre gioco e che subisce il raddoppio del Cittadella al 18esimo con Siega che se ne va da solo in contropiede sul filo del fuorigioco andando poi con un tiro ad incrociare a battere per la seconda volta l'incolpevole Pigliacelli. Stadio adriatico ammutolito ed incredulo al cospetto di un Pescara imbarazzante e quasi mai capace di impegnare il portiere ospite fino al 37esimo quando Salvi va a commettere fallo in area di rigore su Mazzotta. Ghersini bene piazzato indica il dischetto con Benali che con un pizzico di fortuna batte Alfonso per il gol del 2-1. Al 39esimo Quame crea un brivido dalle parti di Pigliacelli con Ebovo che riesce a salvare ma la squadra di Venturato in giornate al 40esimo ancora Quame ad impegnare il portiere Biancazzurro. Nelle finale di tempo non accade più nulla al di là di qualche scontro piuttosto duro in mezzo al campo fra i giocatori delle due squadre. Nella ripresa si riparte con gli stessi protagonisti della prima parte di gara e con i Biancazzurri più intraprendenti. All'undicesimo e Zampano a fare tutto bene prima di sparare alto dall'interno dell'area di rigore. E' un pescara sicuramente diverso da quello dell'avvio di gara ma confusionario e che comunque spinge quando può. Al 19esimo sembra fatta con Zampano che crossa nell'area piccola per Pettinari che in scivolata mette di un soffio a lato prima di essere sostituito da Gans con Venturato che risponde gettando nella mischia l'ex Lucas Chiaretti per Siega e poi Arrighini per Strizzolo. In campo la gara resta aperta con il pescara che rischia ma che spinge e che al 33esimo si divora il gol del pareggio con Benali. Zeeman tenta il tutto per tutto mandando in campo Crescenzi e Cappelluzzo per Del Sole e Mazzotta. Il pescara a trazione anteriore spinge più con la forza della disperazione che con la lucidità ma il risultato non cambia con il punteggio che così sorride ai Veneti vincitori per la prima volta nella loro storia allo Stadio Adriatico. E questo è il servizio proprio sulla partita del pescara. Vediamo anche dalle colonne del centro il novantunesimo. Zeeman così si gioca a subuteo. Il tecnico bacchetta la squadra. Atteggiamento preoccupante. Non ci sono movimenti. Tutti fermi ad aspettare il pallone. In basso parla Torrera, l'ex Biancazzuro. Ieri in tribuna lo vedete con Caprari. Nella foto, peccato per il risultato, ha detto Torrera, ma la B è questa. E poi direi di fare un riferimento anche perché quella di ieri è stata una giornata anche importante su questo fronte. C'è stata la raccolta di firme per la petizione promossa per la modifica del rito abbreviato per quanto riguarda i reati cruenti tra cui l'omicidio, questa iniziativa partita nello scorso mese di giugno anche in nome di Jennifer Sterlecchini uccisa il 2 dicembre scorso e quindi per quanto riguarda la giornata di ieri c'è stata questa raccolta di firme e dunque c'è stato il ricordo di questa giovane sfortunata pescaresa e il ricordo anche della curva nord. Vedete lo stricione che è stato esposto ieri dai tifosi delle Pescara a giustizia per Jennifer. Andiamo avanti, siamo alla pagina del centro che riguarda la Lega Pro, il Teramo. Teramo è un punto che vale doppio, uno a uno al stadio di Bassano con la rete di Foggia al cinquantesimo minuto. Pordenone e Samb vanno in testa a Braccetto, Pordenone che batte il Ravenna, la San Benedettese che vince con il Sant'Arcangelo. Andiamo a vedere anche dal messaggero Foggia golla al novantesimo, Teramo impatta, grande risultato per i ragazzi di Asta sul campo della capolista. Il Bassano si era portato in vantaggio con Fabbro. Nella ripresa vediamo anche il novantunesimo, Asta felice con i tifosi, iniezione di fiducia e poi Caidi cede il gol a Foggia. Gli attaccanti sono fatti così e noi andiamo a vedere il servizio sulla gara giocata ieri dal Teramo a Bassano. Un Teramo solido sfrontato strappa un punto al mercante di Bassano dopo una prova convincente che comunque stava quasi per condannarlo. Serve il guizzo multiplo di Caidi e Foggia che si contendono la paternità di una rete e che gli almanacchi regaleranno solamente la punta ma che per gran parte è merito del difensore centrale. Asta cambia la formazione come nelle previsioni ma tenendo il 3-5-2 come modulo di riferimento. Sales fa il terzo di difesa mentre Varas fa il quinto a sinistra. L'inserimento di Graziano pare subito pagare perché l'ex Renati dopo 13 secondi va vicino al gol dell'immediato vantaggio. Ancora Graziano al settimo su traversione dalla sinistra di Varas. La testata non inquarra lo specchio della porta. Barbuti preferito a Foggia dal primo minuto si fa notare per un destro fiacco al diciassettesimo. La risposta del Bassano è affidata alla punizione insidiosa di Minesso al ventunesimo su cui calore è super nell'intervento. Parte centrale del Bassano con Bianchi che gira col sinistro alto sopra la traversa un traversone da sinistra di Salvi. Nell'intervallo però Asta mette mano alla panchina. Altobelli entra al posto di ventola, sale se si alza nei 5 di centrocampo. Con Sumarec in apertura di ripresa cicca il pallone al limite dell'area di rigore per la facile presa di Grandi. Ma è clamorosa l'opportunità che Barbuti fallisce al 56esimo. In un entrato Foggia per Sumarec che pesca Barbuti in posizione e la linea di difensori di casa è impreparata. La punta controlla il pallone ma al momento di calciare col destro la sua conclusione viene smorzata da botta in sciola. Il Teramo non punge a sufficienza e quando il gol non arriva spesso il diavolo è costretto a chinare la testa. Al 73esimo traversone di Laurenti per Grandolfo che forse è in posizione di fuorigioco. La palla filtra per Michael Fabbro che gira le spalle di calore e il pallone che gela il Teramo dopo una buona partita e con soli 17 minuti più recupera ancora da giocare. Al minuto 84 ci prova anche l'ex di turno Francesco Carcalis a dar fastidio a calore. Nel Teramo entra anche Bacio Terracino stoppato al 91esimo al momento di battere a rete. Tutto rimandato di qualche giro di lancette perché al minuto 95 Varas scodella un pallone che è una preghiera. Speranza spizza e Caidi colpisce come può servendo di fatto Foggia che da 0 metri regala la parità alla formazione di Asta che scendene dallo stadio mercante ritrovando in un colpo solo il suo attaccante. Secondo gol in campionato e primo su azione dopo il centro dal dischetto con Ravenna. Pregio meritato dunque che il Teramo prenda e porta sul pullman che lo riporta in Abruzzo. In una settimana tre gare e tre punti. Non sarà il massimo ma continuando con questo spirito la vittoria non può che essere dietro l'angolo. Bravi ragazzi! Per domenica abruzzo! E questo è il servizio di Jacopo Forcella sul pareggio del Teramo. Siamo alla Serie D. Valenti e Boldrini trascinano l'Aquila. L'Aquila vittoriosa a Fabriano. Un'Aquila che nonostante i problemi societari continua a fare molto bene in campo. Il successo a Fabriano stavolta è stato più difficile del previsto. La squadra si è rilassata dopo il doppio vantaggio. Oggi a Roma bisognerà valutare che cosa succede. Ne stavamo proprio parlando adesso sul fronte. Società Battistini al novantunesimo dice orgoglioso della prestazione dei ragazzi. Poi parliamo del Pineto. Pineto che impatta a Iesi tra pali e rigori e paratieri. Gara spettacolare in terra marchigiana. Dunque possiamo andare a vedere il servizio che abbiamo realizzato proprio per la partita tra Iesina e Pineto. Al Pacifico Carotti termina 1-1 tra Iesina e Pineto al termine di una gara godibile che entrambe le formazioni cercano di vincere. Gian Angeli schiera un 4-4-2 con Carotti e Magnanelli nel cuore del centrocampo mentre in avanti la coppia d'attacco è composta da Trudo e Pierandrei. A Maulo per la prima volta in stagione riesce a schierare la stessa formazione che domenica scorsa ha battuto la Vispesaro un 4-2-3-1 con Zane ed Esposito sulla mediana e Di Rocco, Mariani e Pezzotti alle spalle del centravanti Gragnoli. Avvio di gara scoppiettante ed è subito botta e risposta. Al terzo minuto il solito Pezzotti, anche oggi autore di una buona prova se ne va sulla sinistra e mette in mezzo un buon pallone per Mariani bravo ad agganciare e superare Tavoni firmando la sua prima rete stagionale. Il vantaggio pinetese dura però solo 4 minuti al settimo infatti la Iesina pareggia i conti con Trudo che raccoglie il cross di Parasecoli e piazza il tiro di incrociare. La gara è viva e gli abruzzesi tengono bene il campo esprimendo un buon calcio e al ventesimo sfiorano il raddoppio. Zane pesca ancora Pezzotti sulla sinistra che piazza un altro buon pallone ma Gragnoli non riesce a girare con efficacia e la sfera termina tra le braccia di Tavoni. Insistono i biancazzurri, autori di un buon primo tempo al ventinovesimo Pezzotti scarica al limite dell'area per Zane ma la conclusione è alta. Alla mezz'ora si rivede la Iesina con una punizione a giro di Anconetani fuori bersaglio. L'ultima occasione dei primi 45 minuti è per Parasecoli ma la sua girata non porta i frutti desiderati. In avvio di ripresa, cambio di modulo per Gianangeli che richiama se Silvestri, arretra in difesa Cameruccio e inserisce Giovannini trequartista dietro le due punte per creare maggiore movimento tra le linee. Ma la prima vera occasione è per la squadra di Amaolo. Al quarto, cross di Di Rocco per Pezzotti, la conclusione è la respinta di Tavoni. Scampato il pericolo però, la Iesina si assesta e col passare dei minuti viene fuori. Al nono, Trudo lanciato sul filo del fuorigioco calcia in maniera sporca facilitando la presa di Giacchetta. Clamoroso all'undicesimo quando ancora Trudo crea scompiglio sulla destra e fa partire un assist al bacio per la testa di Pierandrei che da due passi c'entra in pieno la traversa. Sul fronte opposto al quarto d'ora è legno anche per Gragnoli che fa tutto bene salvo poi calciare sul palo. Episodio che potrebbe essere decisivo al diciottesimo quando il direttore di gara Zucchetti di Foligno ravvisa con la massima punizione una scorrettezza di Fiumara su Trudo. Lo stesso attaccante però dagli undici metri si fa ipnotizzare da Giacchetta che respinge conservando il palo. La reazione del Pineto non si fa attendere. Prima Esposito Arpiona e mette in area un buon pallone per Gragnoli che però viene anticipato. Poi lo stesso Gragnoli è sfortunato quando dopo una bella azione corale c'entra in diagonale il secondo legno di giornata. In pieno recupero ci prova anche Napolano ma la conclusione a giro centrale è preda di Tavoni. Non ce la fa dunque il Pineto pur offrendo una buona prestazione ad andare oltre il pari contro la Jesina ma riesce ad ottenere comunque un punto che dà continuità alla vittoria di domenica scorsa in vista della gara contro la San Giustese. Proseguiamo, siamo sulle pagine del centro. L'Aquila primo colpo in trasferta 2-1 sul campo del Fabriano e poi Francavilla sotto tono tifosi negli spogliatoi chiedono un confronto giallorossi sconfitti per la terza volta consecutiva in casa Francavilla che ha perso tutte e tre le gare giocate davanti ai propri tifosi. Noi andiamo a vedere anche il servizio sulla sconfitta di ieri dei giallorossi con il Castelfidardo Stefano Recanati. Per la sesta giornata del campionato di serie di Girone F si affrontano Francavilla e Castelfidardo. La squadra del presidente Candeloro vuole riscattare la sconfitta subita a Campobasso domenica scorsa ma soprattutto vuole regalare la prima gioia interna ai propri tifosi ma deve fare a meno degli assenti Banegas, Fofanà, Duro, Silvestri, Molenda, Cichella di Sabatino Castelfidardo arriva al completo al Valleanzuga per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa con il San Nicolò parte subito forte il Francavilla dopo due minuti con Procida che colpisce il palo alla sinistra di Selvaggio dopo una bella azione a due totti partita dalla difesa partita subito bella a ritmi elevati al sesto minuto risponde subito il Castelfidardo con il numero 10 Grazioso che calcia dalla distanza con la sfera che per poco non sorprende il numero 1 di casa Spacca al decimo il gol del Castelfidardo con Montagnoli che approfitta di un errore della difesa locale e batte da distanza ravvicinato Spacca subito la reazione del Villa che al tredicesimo minuto va vicino al pareggio con Palumbo che tira dalla distanza senza impensierire il portiere ospite dopo un avvio ricco di emozioni calano i ritmi della partita ma il Villa dà l'impressione di poter arrivare al pareggio minuto 30 si rivede il Castelfidardo punizione battuta corta riceve l'autore del gol Montagnoli che ci prova dal vertice parra a terra Spacca al minuto 35 la squadra di Iervese chiede il rigore per un fallo di mano del numero 5 Giovagnoli in aria ma non è dello stesso avviso Vogliacco di Barri così come al 39 39 altro tiro dalla distanza ancora tocco di mano dubbi in aria del Castelfidardo ma anche questa volta per il giudice di gara non ci sono gli estremi per decretare il calcio di rigore tra la protesta dei giocatori e dei difusi di fede locale al 40 l'ultima azione del primo tempo punizione per il Francavilla schema che trova Palumbo stoppa di petto si gira e calcia ma la palla finisce al lato della porta difesa da Selvaggio la ripresa si apre subito con il cambio per Castelfidardo con Borghese che rileva il numero 10 Grazioso al settimo ci prova Miha e Love per il Castelfidardo ma il gioco era fermo per fuorigioco all'undicesimo ancora Castelfidardo con Lispi che prova la botta al limite e palla che si spegne di fuoco fuori e la testa di Spacca il Villa ci prova con giocate che risultano molto confusionari Castelfidardo che aspetta e cerca di ripartire in contropiede al minuto 14 ancora dal limite il Castelfidardo con Trillini Spacca che para a terra al sedicesimo doppio cambio per il Villa escono Mele e Fiore ed entrano Di Pietrantonio e Mancini per dare più vivacità all'attacco al diciannovesimo ancora Castelfidardo vicino al raddoppio con Trillini supera due avversari ma tu per tu con Spacca si fa respingere il tiro al ventesimo ancora Castelfidardo con Mele ancora tu per tu con Spacca ma anche lui si fa pulizzare mantenendo a galle i suoi minuto 30 si rivede davanti il Francavilla con Dipinto che riceve palla dalla tre quarti porta avanti e calcia con il pallone che si perde di alto sulla traversa al quarantatresimo l'occasione più ghiotta della ripresa per il Villa Lucicchi raccoglie una sponda di Dipinto si invola verso la porta ma tu per tu con Silvaggio non inquadra lo specchio della porta poteva essere l'occasione del pareggio dopo quattro minuti di recupero il signor Vogliacco di Bari decreta la fine della partita con il Castelfidardo che espugne il Valle Anzuca e va a festeggiare con i propri tifosi piccola contestazione da parte dei tifosi locali a fine partita per gli uomini di Mister Iervese con il Valle Anzuca che resta ancora tabù e domenica prossima trasferta sul campo della Re Canatese e parliamo della Vastese del San Nicolò di questo derby giocato ieri a Pineto camponeuto tra i biancorossi e i biancazzurri Teramani la spuntata la formazione di Colavitto Vastese vittoriosa per 2 a 1 Tedesco porta in vantaggio i biancazzurri di Campanile poi si scatena Capitan Fiore gol ed assist a Leonetti per il sorpasso andiamo a vedere il servizio va alla Vastese l'unico derby della sesta giornata la squadra di Colavitto torna al Mariani Pavone di Pineto ma al contrario di quanto accaduto contro la squadra locale questa volta riesce ad espugnarlo e a condannare alla sconfitta il San Nicolò costretto ad emigrare anche dal campo di Morodoro per il contestuale impegno casalingo della compagine morrese all'11 dell'ex Luca Campanile non è bastato andare in vantaggio ad inizio partita ed ha subito il colpo del K.O. al fotofinish senza Gori Tersini e Marra il San Nicolò si ritrova anche senza Di Benedetto in extremis per attacco febbrile Petronio parte dalla panchina con il Baby 2001 Fabriani in campo dal primo minuto Colavitto ha invece il pieno organico a disposizione pronti via dopo 6 minuti San Nicolò è già in vantaggio con un preciso colpo di testa di Tedesco su cross di Maisto ma la vastese non ci sta a questa situazione di svantaggio e reagisce prontamente con una conclusione dell'ex Stivaletta al 13esimo ben paratta da Di Berardino l'estremo San Nicolese due minuti dopo rischia però di combinarla grossa quando dopo un retropassaggio di Indiae cincisca un po' troppo e si fa soffiare palla da Leonetti il quale sbaglia clamorosamente il pallone dell'1-1 dopo un avvio vivace la gara si assesta sull'equilibrio e bisogna attendere il 33esimo per annotare la conclusione sull'esterno della rete di Massetti sugli sviluppi di un corner ma due minuti dopo arriva il pareggio Nicola Fiore si esibisce con la sua specialità calcio piazzato sul quale Di Berardino non sembra del tutto esente da colpe e così 1-1 prima dell'intervallo ci riprova ancora Massetti che raccoglie la corta respinta con i pugni di Camerlengo ma il suo tiro si perde di poco sopra la traversa il San Nicolò è sovente pericoloso sui calci d'angolo così come viene al nono minuto della ripresa ma sul tentativo di deviazione di De Santis si salva la difesa biancolossa un minuto dopo risponde la vastese con un contropiede impostato da Fiore per Cristaldi che seppur ostacolato conclude ma Di Berardino farà bene Fiore è ispiratissimo e al quarto d'ora impegna ancora severamente Di Berardino a metà tempo si mettono in evidenza i cambi di campanile De Carolis appoggia per Petronio che dal limite chiama Camerlengo alla presa a terra occasionissima vastese al 36esimo a fondo e cross di Bittaglia il solito Fiore fa tutto bene rientra e calcia ma c'entra in pieno l'incrocio dei pari nel finale la gara come detto si risolve al 43esimo la rovesciata di De Carolis fuori misura al 44esimo il gol partita lo ispira ancora lui Fiore il cui cross è un invito a nozze per Leonetti che riscatta l'errore del primo tempo e griffa il gol partita non c'è più tempo per il San Nicolò che incassa il secondo stop consecutivo ma stavolta lottando al contrario di quanto accaduto a Castelfidardo per la vastese è la terza vittoria in il campionato la prima lontano dall'Aragona che la proietta a ridosso delle squadre migliori del campionato torniamo in studio per parlare dell'Avezzano l'Avezzano risorge dopo un periodo negativo Dosantos fa dimenticare i fischi Biancoverdi Marsicani che passano per 2-1 sul campo della San Giustese Giampaolo al novantunesimo dice punti meritati dopo un periodo sfortunato e poi in basso secondo pari stagionale secondo punto in classifica per il Nero Stellati Prato la smarrita però la strada del gol i Peligni non vanno oltre lo 0-0 sul neutro del Pallozzi di Sulmona con la Re Canatese andiamo a vedere anche le pagine che riguardano in questo caso il campionato di eccellenza per vedere i risultati della giornata Cupello-Angolana 0-1 San Buceto-Riverchieti 1-1 e poi Martinsicuro-Miglianico 1-0 Acqua e Sapone Amiternina 1-1 Montorio-Spoltore 0-2 vediamo dobbiamo recuperare però la pagina precedente con gli altri risultati appena si apre eccola qui vediamo gli altri risultati del campionato di eccellenza Chieti che batte il capistrello per 3-0 e poi Paterno-Sansalvo 3-2 Real-Giulianova-Penne 3-2 Torrese-Alba-Driatica 1-2 andiamo a vedere anche i risultati del campionato regionale di promozione partiamo dal Girone A Pontevomano-San Gregorio 2-2 Fontanelle-Rosetana 1-3 Nuova-Santegidiese Notaresco gara sospesa per incidenti Morrodoro-Pucetta 1-4 Colonia-Santomero 2-0 Piano della Lente Alba-Montano Montaurei 4-1 Tossicia Virtus Teramo 0-3 Mutignano-Mosciano 1-0 vediamo anche il Girone B Sportland-Celano Casalbordino 1-3 Bucchianico-Fatarangilini 1-1 Castiglione-Valfino Valdisangro 4-2 Fossa-Cesia Real-Treciminiere 0-0 Il Delfino Pescara Rayano 0-0 Piazzano Casolana 2-2 Sulmona Ortona 1-0 Palombaro Virtus Pratola 1-3 Passo Cordone Villa 2015 2-2 Siamo arrivati poi saltiamo le pagine che riguardano il calcio dilettantistico vediamo di attendere un attimo per l'apertura delle pagine che riguardano gli altri sport ma lo possiamo fare anche dal messaggero per andare a vedere cosa è successo nel basket con Roseto che si arrende alla poderosa Montegranaro seconda sconfitta per la formazione rosetana e poi nel basket di serie B Giulianova e Campli a punteggio pieno Teramo e Ortona ok dunque vincono tutte le abruzzesi eccezione fatta per l'amatori Pescara che è stata sconfitta in casa dal Sansevero per 71 a 65 e poi il volley di serie A2 notizie positive per la SIE Cortona che vince al tie break a Taviano e dunque ottiene il secondo successo consecutivo in campionato una vittoria importante per la formazione ortonese vediamo se possiamo recuperare la pagina eccola qui che riguarda il rugby perché quella di ieri è stata anche la giornata del derby aquilano di rugby in serie A tra l'Aquila ed il Gran Sasso con l'Aquila che scende in campo dopo che nella domenica precedente la formazione non aveva disputato la gara in calendario l'Aquila che scende in campo e batte il Gran Sasso nel derby tutto aquilano per 27 a 20 la forza in mischia ha fatto la differenza grigio-rossi troppo tesi noi prima di chiudere andiamo a recuperare un articolo importante sul Corriere della Sera oggi in edicola che riguarda il Pescara riguarda Zeman e riguarda la firma del tecnico vedete nella foto la foto tra l'altro possiamo a questo punto anche fare un po' di pubblicità per la nostra rete perché vedete che sul Corriere della Sera che è il quotidiano più venduto in Italia c'è questa foto del tecnico del Pescara Zeman che firma la petizione foto lo vedete lo potete leggere di tratta da TV6 l'articolo del nostro collega Nicola Catenaro proprio con questo articolo dedicato dal Corriere della Sera alla firma contro il rito abbreviato del tecnico del Pescara che proprio al nostro Nicola Catenaro ha detto sono cattivo chi ha sbagliato paghi Pescara la petizione per dare giustizia a Jennifer uccisa dall'ex mobilitazione ieri allo stadio di Ratico ne abbiamo parlato anche prima con gli articoli dal centro e dal messaggero con questo importante articolo del Corriere della Sera oggi in Edicola siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi il primo della settimana con Mattino 6 che tornerà domani puntuale alle 8 io come sempre ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito vi do appuntamento alle 14 per la prima edizione del TG6 e vi ricordo a proposito di sport questa sera in diretta dai nostri studi alle 21 l'appuntamento con Replay con Enrico Rocchi e i suoi ospiti per parlare del Pescara dopo la sconfitta di ieri con il Cittadella e in vista della gara di sabato prossimo al Tardini di Parma è davvero tutto grazie e buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti